Allora, qui abbiamo degli occhiali, un accendino con delle candeline, abbiamo delle uova sode, poi abbiamo due flaconi vuoti, delle uova, un piatto, lo vedete da voi, siamo italiani, quindi accendiamo la candelina, facciamo atmosfera, ora prendiamo un uovo, aspettiamo un attimo che la temperatura sia quella giusta, manca un elemento importante, ecco, ecco, scusate, grazie, grazie, ecco, adesso, penso che la temperatura è giusta, strapazzate, ecco, il sale, vabbè, poi un'altra volta il sale, senti un po'? Com'è, buono? Buono. Ecco, esperimento riuscito, pensa, che è buono. Ecco, poi l'uovo al tegamino. Beh, ci sono delle uova già sbucciate, delle uova sode? Sì, ci sono delle uova già, ah! Già sbucciate. Magari, questo intanto sta bruciando. Ecco. Magari, questo è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più. Magari, questo 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 è un po' di più. Grazie.